Ben ritrovati, buongiorno a tutti e a tutte. Focus Periferie, oggi è il mercoledì 5 giugno e siamo qua in compagnia di Walter Cherubini, consulta Periferia Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati a questa che è la 183esima puntata di Focus Periferie, quindi diciamo che il percorso continua e per dare anche una finestra puntuale a quello che è la realtà periferica della città che ricordiamo copre l'80% del territorio cittadino ma anche dove dimora i due terzi dei residenti, circa 850.000 persone tra una cosa e l'altra. Quindi non si può parlare di città senza prendere in considerazione le sue periferie, in questo caso Milano appunto che vede la maggior parte di noi abitarci e anche appunto la maggior parte del suolo è proprio periferico diciamo per quello che può essere la definizione periferia. Se volessimo un attimino andare a recuperare qualche frase di qualche persona nota come l'architetto Renzo Piano che all'incirca nel 2000 disse che la periferia è la città che sarà o non sarà e che sarebbe stato un po' il tema dei prossimi 30 anni, nel 2000 lo disse, adesso siamo arrivati al 2024, diciamo che ci siamo mangiati 24 di questi 30 anni per certi aspetti e il tema delle periferie che è un po' come un fiume carsico anche dal punto di vista del dibattito appare, scompare, le periferie non ci sono, erano una cosa di vecchi tempi che adesso non ci sono più. Diciamo che le periferie si modificano ma se mantengono le caratteristiche delle periferie in generale che sono sostanzialmente due quelle riconosciute anche dal libro bianco della comunità europea del 2000 e uno e quindi disse che le periferie sono caratterizzate da due aspetti uno che è la mancanza di un'amministrazione adeguata due la mancanza di identità per quanto riguarda Milano diciamo che per quanto riguarda la prima la mancanza di un'amministrazione adeguata abbiamo appena, diciamo così, ricordato nel 2023 il centenario dell'aggregazione degli antichi comuni milanesi che avvenne appunto nel 1923, 14 dicembre e quindi che cosa fece dal punto di vista dell'amministrazione c'erano 11 comuni più ricordiamo anche quello di Turro fino al 1918 e che vennero sciolti aggregati questi comuni quindi quell'amministrazione di cui dice il libro bianco c'era tecnicamente Milano c'era cento anni fa e è stata tolta quindi diciamo ma sono anche i municipi poi quest'area dei municipi sarà il tema diciamo proprio da qui ad avanti però libro bianco dice anche mancanza di identità quella invece Milano allora la mancanza di identità a differenza di altre città che si sono diciamo così costruite per estensione e poi questa estensione può avere dei quartieri satelliti molto importanti ma anche diciamo degli aggregati quindi se andiamo anche alle città internazionali Favelas, Bivdonville eccetera eccetera c'è di tutto di più noi a Milano non è propriamente così perché si è spasa per annessione avendo aggregato delle realtà millenarie ma forse anche più che millenarie dove gli anziani ma non solo ma gli anziani appunto che stanno a Crescenzago piuttosto che a Afri piuttosto che a Baggio e che cosa dicono? Ah vado a Milano e quindi mantengono questa loro identità un'identità diciamo così che anche per il cambio della popolazione la popolazione è cambiata significativamente diciamo che le persone che 15 anni fa abitavano a Milano ne sono rimaste il 50% o poco di più capite che c'è un cambiamento proprio significativo quasi che non si riesce a percepire alcune volte ma anche i dati statistici lo raffigurano allora questo tipo di identità vuol dire che può essere recuperata perché non è persa però è lì come sotto la braccia che però bisogna ravvivarla questa braccia e dargli fuoco ecco un'iniziativa che è stata fatta da questo punto di vista nel centenario dal tavolo periferie Milano che si riunisce mensilmente ospitato dalla presidenza del Consiglio Comunale di Milano a Palazzo Marino è composto da tutta una serie di organizzazioni cittadine che nel corso del tempo hanno dato una diciamo così una manifestazione di interesse periferico e quindi con il centenario degli antichi comuni che è un po' il filone che stiamo seguendo adesso sono state riconosciute più di 80 realtà imprenditoriali sportive educative eccetera che preesistevano nel 1923 ma sono tutt'oggi operative e sono esattamente quel filo di congiunzione tra la Milano che non era ancora la Milano di adesso di cento anni fa e quella che è diventata oggi quindi attraverso la loro storia si legge è quello che è la realtà in evoluzione della città città che si evolve anche dal punto di vista edilizio però nel senso che insomma la città sappiamo poi in questo momento insomma un po' sotto la lente di ingrandimento anche delle varie procure che stanno indagando su alcuni fascicoli un po' particolari su regole da una parte dicono interpretate da una realtà sembra che hanno ragione tutti quindi anche questo è interessante questa volta è veramente e forse questa volta che non sia davvero così perché insomma queste regole erano un po' così interpretabili però è una città che sicuramente vede nella rigenerazione urbana nell'espansione di alcune zone il suo futuro no? Cosa abbiamo all'orizzonte? Ma Milano si è andata trasformando il problema è come va la trasformazione come come spesso accade quindi il problema non è quasi mai il cosa in realtà sul cosa è sempre il come che porta ad avere poi i problemi ma anche sul cosa delle volte insomma tante teste tanti mondi e quindi ognuno ha la propria ed è proprio qui il tema cioè questa città è una città fotografata per cui la domanda è questa città è quella fotografata nel 2015 dall'indagine Ipsos che dice Milano è un operoso alveare con tante celle che non comunicano tra di loro una Milano che non fa sistema e in quest'ottica qui le periferie sono dei luoghi marginali sconosciuti e tenuti in margine allora alla luce di questo scenario noi dobbiamo dirci se Milano è una serie di celle che vanno avanti per conto proprio e quindi poco si curano dell'altro oppure se abbiamo una logica di città mettiamo pure comunità e quindi dove le varie energie che ci sono le varie proposte che ci sono diventano un arricchimento della città più che un segno di contraddizione e contrapposizione all'interno della città questo è il punto allora ci sono due aspetti crediamo significativi in questo dibattito che si sta anche sviluppando attorno alla città e anche alla luce di queste situazioni contingenti che stanno un pochettino mettendo a dura prova quello che è anche l'organizzazione dell'amministrazione comunale ma anche quello che è la visione della città che possiamo avere e da questo punto di vista vale la pena così evidenziare due iniziative uno è il progetto Milano 2050 dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili del Lance di Milano che rispetto a questo dibattito in corso si è messa all'opera e quindi ha cominciato a raccogliere le opinioni le proposte di una quarantina di realtà che operano sul territorio di varia natura il sindacato la Caritas associazioni tematiche una realtà piuttosto varia dove la logica è quella di raccogliere tutta una serie di proposte e quindi poi individuare una serie di progetti diciamo così maggiormente condivisi per essere proposti alla città e questo qui è un percorso interessante perché cerca di strutturare un'iniziativa invece di lasciare quello che è l'atteggiamento abbastanza normale dove si fa un convegno ciascuno dice la propria e poi tutti quanti si torna a casa invece qui l'idea è quella di raccogliere infatti ci sono state anche quattro audizioni diciamo così collettive con una decina di attori per ciascuna di queste di queste audizioni dove hanno potuto dire la propria anche un pochettino confrontarsi diciamo che è un significativo primo passo da un'altra parte c'è l'iniziativa che ha proposto il tavolo periferie Milano è iniziato a Palazzo Marino il 28 maggio scorso e riprenderà diciamo con un percorso mensile dove la logica è ci sono tutta una serie di iniziative singole che hanno una visione cittadina e cercano di dare un contributo cittadino ma non sono assolutamente conosciute allora sono lavori anche strutturati cominciamo a condividerli a capire che cosa sono e che cosa può essere utile ma come si può fare a condividere questo è un tema che potremmo avanti da tanti anni quello della condivisione della comunicazione di queste celle appunto operose ma che non parlano tra di loro allora a chi ha partecipato a questo a questo primo incontro che non è per esclusione ma anche perché la sala di Palazzo Marino che abbiamo utilizzato è contingentata di posti quindi siccome un lavoro che si vuole stratificare non è un'assemblea ma è un lavoro che si vuole stratificare condividere e poi mano a mano allargare anche sul territorio perché il punto è questo noi abbiamo un territorio come si dice ricchissimo di iniziative di energie che poi rimangono là ma già divise sul territorio e frammentate perché sono rarissimi i casi dove ci sono delle realtà consolidate di lavoro al massimo sono delle aggregazioni progettuali ma realtà che stabilmente vivono sul territorio a 5, 10, 20, 30 anni e che quindi sono un po' loro la classe dirigente di quel luogo lì perché se arriva uno fa un progetto e sta lì due anni ma quello da un apporto specifico dopodiché come è accaduto in alcune situazioni come per esempio al Corvetto con il mercato di Piazza Ferrara dove alcuni tempi burocratici sono andati i bandi di un paio d'anni si sono esauriti e chi aveva vinto i bandi non c'è più allora la concezione del bando che può avere una propria utilità ma in un lavoro stabile continuativo sul territorio delle città in particolare delle periferie non è adeguato non funziona questo credo che debba essere riflessione anche per tutti quegli enti erogatori che ce ne sono numerosi a Milano dove investono numerosi soldi ma come ha cominciato qualcuno a riflettere investiamo soldi facciamo cose ma la situazione non riesce a cambiare probabilmente proprio perché c'è un metodo che non è adeguato è un metodo che è quello che bisogna riscoprire un pochettino che non è quello progettuale che investe qualcuno un pezzettino di territorio ma che comincia a guardare al territorio nella sua complessità come faceva il sindaco cento anni fa il sindaco di Baggio qual era la sua priorità non era sicuramente piazza della scala ma era piazza Stovani oggi oggi e di intorni quindi dobbiamo anche pensare un modello organizzativo diverso e qui ci sono due appunto aspetti tu questa cosa però dici spesso ma mi vuoi dire che veramente nel 2024 un sindaco seduto nel suo ufficio Palazzo Marino non può avere l'idea di governare una città fino appunto a piazza Stovani al Grattosoglio o a qualsiasi via di affori allora come ha recentemente detto il sindaco Albertini l'ex sindaco l'ex sindaco Albertini ha detto il cittadino chiede al sindaco di Milano quindi non stiamo parlando di un sindaco di un'altra cittadina stiamo parlando del sindaco di Milano che però vale anche per le grandi città da questo punto di vista che cosa gli chiede gli chiede le grandi strategie e quindi per esempio che Milano diventi un centro motore del mondo e poi gli chiede anche che venga pulito il tombino ok allora un sindaco di Milano che si deve occupare di una metropoli seppur piccola come Milano con le stesse modalità organizzative che aveva nel 1872 ok quando era poco più di 8 km quadrati e oggi chiediamo allo stesso sindaco il bellinzaghe di allora e chiediamo all'attuale sindaco chiunque esso sia quello di qualche anni fa o anche prima è quello che sarà e gli chiediamo le stesse cose e lui ha la stessa organizzazione la stessa organizzazione dove diciamo sempre una piccola una piccola fresetta di questo libro il governo della città complessa il professor Balducci che è stato prorettore del Politecnico di Milano e quindi si occupa di questioni urbanistiche all'interno della facoltà di architettura ma è stato anche per un breve periodo assessore l'urbanistica del comune di Milano e quindi ha potuto vedere l'organizzazione amministrativa dall'esterno ma poi sperimentarla anche dall'interno e quindi che cos'è che sottolinea dice ci sono dei processi di cambiamento mentre l'attrezzatura culturale e tecnica di chi amministra le città è rimasta la stessa con le sue settorialità con le sue piante organiche le sue strutture formate da competenze separate diciamo sempre che tornando alla Milano operoso alveare una Milano che non fa sistema infatti se noi andiamo a vedere come è organizzata l'amministrazione che è uno della città pubblica l'amministrazione è uno degli elementi pubblici è fatta da competenze separate il risultato è che noi abbiamo sul territorio numerosi servizi che vanno dalla polizia locale all'anagrafe agli asili i servizi sociali e anche le guardie ecologiche volontarie e tutti quanti operano separati e poi abbiamo quello appunto che era il tentativo di risposta all'amministrazione del territorio che sono prima i consigli di zone introdotti nel 1968-69 con 20 zone e oggi i municipi che hanno avuto un regolamento nuovo dal 2016 quindi stiamo parlando di otto anni fa non proprio otto giorni fa e quindi qual è il loro compito? Il loro compito è che sono un ulteriore ente che invece di organizzare e fare sistema sul territorio di tutti questi enti che ci sono comunali che già paghiamo eccetera e un altro ente che come è capitato recentemente sulle pagine anche del Corriere di fine aprile in relazione a quello che è il terminal dei bus di Lampugnano dove c'è una situazione fuori controllo dove chi va rischia di aver rubato i bagagli e quant'altro e quindi i cittadini si sono lamentati e lo hanno fatto presente anche al consiglio al municipio e anche al comune e il municipio che cosa ha fatto? Anche lui l'ha fatto presente al comune allora una situazione particolare territoriale il municipio oggi che cos'è? E' uno che raccoglie una segnalazione e la segnala a un altro cosa che fa già un comitato un cittadino che prende la segnala al comune ecco che allora il problema non è fare qualcosa ai municipi dato che ci sono il problema è ma il territorio ha bisogno di una struttura organizzativa che lo presidi stiamo parlando di un territorio non della città del comune di Baranzate che è grande a 3 km2 ma qui stiamo parlando di una realtà molto più ampia articolata e quindi noi diciamo che quel tentativo di restituzione nell'ambito di una logica di una città policentrica che era stata l'introduzione del decentramento che poi è rimasta lettera morta perché come evidenziato anche da un documento fatto da tutti i consiglieri del municipio 9 in particolare che cosa sappiamo che all'interno del comune ci sono forze burocratiche o politiche che non sono molto d'accordo con il funzionamento dei municipi e quindi i municipi rimangono cenerenti a letta la morta però i problemi rimangono tutti sul tappeto e anzi si vanno esasperando in questo senso l'iniziativa della fondazione Dioguardi che è la prima che abbiamo ospitato appunto in questo percorso promosso da Tavolo Periferie Milano che è il percorso periferia policentrica perché se dobbiamo avere una città come si dice policentrica dobbiamo avere una amministrazione policentrica questo qui è un dato piuttosto importante e quindi anche una riflessione piuttosto a breve su l'organizzazione cittadina come si può fare a fare questo ragionamento ci sono le possibilità anche per imparare magari a diventare un buon dirigente magari domani la fondazione Dioguardi appunto che abbiamo ospitato con una trentina di realtà territoriali da Chiaravalle Milanese a Precotto a Baggio quindi piuttosto dislocate sul territorio abbiamo avviato un percorso e quindi abbiamo ascoltato qual è la loro proposta della city school per il governo della città complessa perché la city school per il governo della città complessa perché chi va a amministrare le città chi occupa determinate posizioni dov'è che l'ha imparato questo da nessuna parte uno è stato il presidente di una società sportiva uno è stato il presidente di un'azienda ma la città è un'altra cosa è composta dall'associazione sportiva ma bisogna avere una visione completamente diversa e anche una visione che conosca la realtà territoriale perché il tema di fondo che noi abbiamo è che ci sono tantissime realtà ma che non sono conosciute proprio perché non c'è quel fare sistema territoriale e quindi si interviene normalmente come emergenza c'è il problema di turno e tutti convergiamo lì e dopodiché l'altra città dove va bene va bene e dove va male va male in questo senso anche il tema dei cantieri anche determinate strutture la fondazione di Uguardi ha proposto il tema del cantiere evento che cos'è il cantiere evento noi abbiamo a Milano tutta una serie di cantieri l'hanno già sperimentato in altri posti ma anche per esempio quando è stato ristrutturato dopo decenni di abbandono il teatro lirico allora un cantiere in una città che cos'è che può essere può essere una parte di città che viene sottratta perché c'è il cantiere mentre prima magari c'era un certo tipo di attività oggi viene sottratta e poi chissà che cosa faranno lì dentro oppure come è successo appunto nella ristrutturazione del teatro lirico già a partire dalle cesate che proteggono il cantiere diventa una possibilità di interlocuzione della città operativamente qual è stata l'iniziativa che è stata fatta con il teatro lirico dove il cantiere è diventato un luogo frequentato dai cittadini dalle scolaresche che andavano a vedere come si fa un cantiere dal di dentro più che vederlo dai teli che lo proteggono ma ci sono state anche sfilate di moda concerti eventi quindi è diventato un luogo che dialoga al servizio della città è chiaro che questo responsabilizza molto chi gestisce il cantiere noi parliamo di sicurezza sul lavoro è chiaro che se io devo ospitare degli esterni e diciamo che tutte le procedure che dovrebbero assicurare la sicurezza del cantiere di chi ci lavora dentro ma anche di chi viene a visitarlo gli occhi diventano più grandi ecco in una situazione dove noi continuiamo a lamentare in generale questa continua mortalità sul lavoro ma anche gli infortuni sul lavoro che sono una pletora molto più ampia ecco questo può indirettamente aiutare anche il tema della sicurezza sul lavoro ecco che allora ci sono delle iniziative che stiamo cercando di mettere a fattore comune proprio in questo percorso di percorso periferia policentrica ma che si può connettere anche con altre iniziative appunto questa iniziativa della Milano 2050 tenuto conto che appunto il target che aveva dato Renzo Piano è dei prossimi trent'anni al 2030 la modifica dei municipi per una gestione territoriale senza spesa e che tutte queste funzioni territoriali non stiamo parlando delle funzioni centrali che le lasciamo stare dove sono ma tutte queste funzioni territoriali che abbiano un raccordo e che quindi rispondano della loro attività a chi a chi i cittadini delegano per il governo della città quei dei municipi quindi la cosa è inserire quattro righe che dicono le funzioni comunali che operano sul territorio mantenendo la dipendenza gerarchica dalle loro direzioni centrali il comando dei vigili dal comando centrale dei vigili eccetera quindi non si tratta di scassare nulla non è questa la preoccupazione ma rispondono a presidenti e assessori perché noi oggi abbiamo gli assessori che teoricamente in un piccolo comune piuttosto che nel comune di Milano gli assessori centrali fanno danno le linee guida intervengono eccetera gli assessori quello che possono fare come è successo appunto in municipio 8 ho un problema me lo porti e io lo trasferisco all'assessore del comune di Milano quindi tre righe proprio le funzioni che operano sul territorio rispondono non dipendono ma rispondono al presidente del municipio e agli assessori di municipio che può anche vedere quali sono le modalità per metterle insieme organizzativamente perché diciamo sempre che ci sono necessità di interventi pluridisciplinari ma come si fa a fare l'intervento pluridisciplinare quando ciascuno è lì con competenze separate e non c'è niente che le tenga insieme sul territorio il tema della periferia è proprio questo quindi quello dell'amministrazione c'è la possibilità di dare una risposta che dà uno sguardo generale velocemente sì ed è esattamente questa piccola variante organizzativa chiarissimo Walter grazie mille anche oggi allora per questo bel escursus sulle periferie su come le soluzioni si potrebbero adottare ci potrebbero essere e speriamo appunto di risentirci più avanti magari prima del famoso 2030 o anche magari prima dei prossimi 30 anni per riuscire a capire come queste cose si stiano o si sono si stanno si stiano evolvendo o comunque sistemando Walter grazie mille consulta periferie Milano torna qui con noi settimana prossima quindi Walter ci vediamo settimana prossima grazie mille grazie anche a voi che ci avete seguito questo è Focus Periferie sempre qui appunto per ricordarvi che insomma l'80% la periferia siamo tutti periferie quindi insomma è importante parlarne e raccontarla a presto grazie mille